Il filmino, come ti chiami? Il filmino, come ti chiami? e poi... ... 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 Voi lo so io! Esce che ho fatto, no? Ma che parla tu! E' un tipo che io non ho fatto che mi sto incontrato! Diverto! Che parla è poi giù! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.